Oroscopo di Seu Venerdì 8 novembre Ariete Siate più testardi di come già siete. Proponetevi per ottenere ciò che volete. L'importante è arrivare al traguardo. Toro Giove vi consiglia di mettere in chiaro le problematiche lavorative. Abbiate comunque pazienza ancora per un altro po'. Gemelli Fate attenzione alle piccole correnti d'aria che potrebbero portarvi problemi di otite ed ascoltate di più i vostri amici. Giove consiglia di mettere in chiaro le problematiche lavorative poiché ciò che vi spetta vi sarà dato. Aiuti dai familiari. Cancro La quiete dopo la tempesta. Amici del cancro, nelle prime ore del mattino sarete irritati dal comportamento di chi vi sta accanto, ma tutto si sistemerà al calar del sole. Notte d'amore. Leone Giornata splendida. In serata sarete sorpresi da una persona a voi cara, fiori e dolci. Vergine Questa mattina vi sveglierete pieni di energia. Si consiglia di riprendere l'attività fisica anche se piove. Bilancia Certe volte bisogna anche chiudere un occhio e non essere troppo bacchettoni con chi vi sta vicino. Scorpione Questa giornata brillerà in voli di saggezza e ciò farà in modo di farvi scoprire da chi nell'ambito del lavoro non vi teneva molto in considerazione. Sagittario Siate più rilassati. Questa morbosità che avete verso chi volete bene non vi farà godere in pieno questi momenti magici. Si consiglia relax. Capricorno Una piccola incomprensione familiare si risolverà mettendo le carte in tavola e fisserete un appuntamento chiarificatore. Acquario Marte Marte consiglia di impegnarsi di più nei progetti futuri, altrimenti potrebbe andare tutto in fumo. Sbrigatevi. Pesci È arrivato il momento di farvi una bella vacanza anche se il periodo invernale sembra non permetterlo.